Il titolo della puntata di oggi, un titolo provocatorio, è Osanti o Delinquenti. E l'ho preso, cambiandolo un po', da quello che scrive fra Emiliano Antenucci nel suo libro Gli ultimi saranno i primi. E lo scrive proprio parlando di una delle sue prime esperienze di collaboratore e operatore di percorsi sul perdono e sulla misericordia che sta portando in alcune carceri di massima sicurezza. Quindi gli ultimi di oggi, come inizieremo a vedere, sono i detenuti, sono le persone rinchiuse nelle carceri. Un mondo per lo più ai tanti sconosciuto. E questo non sembra un bene. Perché quando non c'è la conoscenza, non c'è libertà. Quando non c'è conoscenza c'è paura. Quando non c'è conoscenza c'è facile giudizio. E quando non c'è conoscenza non c'è nemmeno capacità di aiutare e di farsi servi di chi è agli ultimi posti della nostra società. Bene, che cosa racconta padre Emiliano? Dice proprio questo. Dice che un giorno entra in un carcere e appena entra un detenuto gli regala una rosa bellissima. Artisticamente fatta da lui con delle bottiglie di plastica. E mi ha detto Padre, una notte ho sognato Santa Rita da Cascia e mi ha detto di fare delle rose e di regalarle. Perché Dio trae dal male il bene. Che bello, no? Un detenuto ti dice che fa esperienza del fatto che Dio sa trarre dal male il bene. E padre Emiliano dice, io mi sono commosso e ho pensato che nessun uomo nasce delinquente o criminale. Ma siamo tutti dei potenziali santi o dei potenziali delinquenti. Perché? Perché dipende dalle scelte che noi facciamo nella nostra vita. Se io voglio essere una persona onesta, se voglio essere una persona retta, lo scelgo. Se voglio essere un delinquente, lo scelgo lo stesso. Ma attenzione! Che molte volte queste scelte non sono libere, non sono consapevoli. Sono costrette. Personalmente, come padre Emiliano, ho conosciuto e conosco persone che sono state in carcere e persone che sono ancora in carcere. Anch'io mi sono convinto che nessun uomo nasce delinquente o nessun uomo nasce santo. Ma dipende dalla vita. E chi è costretto a fare scelte fuori le righe, molto volte è costretto dalle situazioni, dalle mancanze d'amore, ed è costretto anche dalla fame, è costretto anche dalla miseria e dalla povertà. Quindi tutti possiamo essere santi, ma tutti possiamo diventare delinquenti, ma poi possiamo cambiare, possiamo tornare, possiamo far vincere l'amore in ciascuno di noi. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!